Il tennis maschile di livello mondiale torna a Fano grazie ad un torneo challenger che si svolgerà al circo tennis della trave dal 6 al 14 di agosto con un monte premi da 50.000 dollari. Anche a Fano si respirerà aria di grande tennis quindi visto che questa formula e il monte premi attireranno più di 80 atleti di altissimo livello comprese anche le giovani speranze del tennis nazionale che vedono in questa tipologia di torneo il trampolino di lancio per fare il salto nei professionisti. Un lavoro impegnativo anche per il circolo tennis fanese che sta allestendo tutto l'apparato necessario per ospitare un torneo di questo livello. Grande sforzo organizzativo, la parola che viene dal cuore è grazie perché qui bisogna ringraziare dall'amministrazione comunale, agli sponsor e anche a tutto lo staff del circolo, ai soci che si sono tassati di persona per arrivare a questa manifestazione così importante perché i 50.000 dollari per ospedalità non ci sono mai stati a Fano maschili. Abbiamo tentato di prendere questo torneo l'anno scorso, non ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti faticosamente quest'anno e adesso intendiamo non perderlo più quindi andare avanti su questa strada. Madrina del torneo ed in rappresentanza della federazione italiana una delle campionesse di tennis italiane più amate di sempre, Lea Pericoli, famosa per la sua tenacia e caparbietà, che negli anni 60 oltre che per il suo tennis lasciò il segno per le sue miss tennistiche rivoluzionarie. Le sue culotte di pizzo campeggiano tuttora nel museo di Wimbledon. Nell'occasione la Pericoli ha voluto lanciare ai giovani tennisti presenti un importante messaggio di vita. Ha lanciato un bel messaggio alle giovani generazioni. Ma io mi auguro, cerco sempre di dire le cose giuste, che in fondo tutto sommato sono le più semplici. Io devo tantissimo al tennis, devo tutto, perché mi ha insegnato a camminare con le mie zampette in tempi molto lontani, molto difficili allora per le donne. Però io ho imparato che il tennis, non essendo un gioco aritmetico, ti dà la possibilità in qualunque momento di recuperare. A me è capitato di essere 6-0 e 5-0 e avere il match point contro e dire, ma magari se vinco a questo punto ce la faccio. E mi è capitato di vincere. E quindi questo mi ha insegnato di fare la stessa cosa nella vita. Combattere. Grazie. Grazie.